Inasio, ancora Inasio, autore di un bel cross, Inasio esce il portiere Diamantino, prova il pallonetto Diamantino e segna il gol che porta le squadre sul 3 a 1 e il gol che ha tutta l'aria di essere quello della bandiera. Molto bello, comunque, Diamantino ha studiato la posizione della difesa avversaria con il portiere fuori, i difensori non hanno ancora fatto in tempo a recuperare, il pallonetto salta tutti e manda la palla in gol. Il bel gol di Diamantino. Siamo al 32esimo minuto del secondo tempo con un Marocco ancora vitale. Le speranze del Portogallo si stanno.